Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Dopo 11 anni, Kate Middleton svela pubblicamente un segreto sul suo matrimonio, un dettaglio che ha spuggito a tutti Kate ed il principe William sono amatissimi non solo dal popolo britannico, ma dalla regina Elisabetta Tanto che la sovrana ha deciso di lasciare in eredità a Kate Middleton, ed alla figlia a Charlotte i suoi gioielli personali, mentre Meghan Markle e la piccola Lilibet dovranno accontentarsi dei gioielli di Lady Di La regina ha notato la tendenza di Kate nello studiare e replicare gli stessi gesti e le parole della sovrana in pubblico La duchessa di Cambridge non ha sangue blu, ma sembra avere tutte le carte in regola per sedere sul trono insieme al, principe William Torniamo al dettaglio che ci interessa, qual è il segreto di Kate Middleton che ha voluto svelare? Kate Middleton, è successo il giorno del mio matrimonio.La studentessa d'arte Kate Middleton, ai tempi dell'università, si è ritrovata nello stesso gruppo di studi con William Il principe ha raccontato che la ragazza era molto più brava di lui a scuola, e che le chiedeva spesso di aiutarlo Alla fine i due hanno trascorso una vacanza insieme sulla neve, in Svizzera, uscendo allo scoperto nel 2003 Da qui sono seguiti svariati tira e molla, il distacco nel 2007 e il ritorno di fiamma, nel 2011 hanno percorso insieme la navata dell'Abbazia di Westminster Il matrimonio di Kate e William è finito sotto i riflettori di tutto il mondo, molti sudditi per osservare i neosposi si sono recati sotto il balcone di Buckingham Palace A distanza di 11 anni dal loro matrimonio, continuano a spuntare fuori nuovi dettagli del giorno più bello della loro vita Non ho voluto farmi aiutare da nessuno, ho deciso di farlo da sola, ammette Kate Middleton iniziando a parlare del suo segreto Volevo essere sicura.prima di sposare il principe William, ha fatto qualcosa che ha deciso di confessare pubblicamente Ha esordito così.volevo essere sicura.Kate Middleton, ha seguito un corso di make-up, prima di unirsi in matrimonio con il principe L'ha fatto non soltanto per apparire sempre bellissima agli occhi di William, ma anche per essere autonoma In grado di prepararsi da sola nel giorno più importante della sua vita Il suo obiettivo era quello di sentirsi a proprio agio con il trucco, avere la possibilità di ritoccare il make-up da sé in qualunque momento Grazie alle lezioni di Arabella Preston, nota make-up artist, ha imparato a truccarsi in maniera impeccabile, a cominciare da quel giorno Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti